Giuliano Bassalli, medaglia d'argento della resistenza, aveva ideato un codice accusatorio che però è rimasto a metà e per l'altra metà è stato demolito dalla Corte Costituzionale e dagli interventi di legislatore che lo hanno riportato a un livello quasi del vecchio codice rocco mussoliniano. Il mio intendimento fondamentale sarebbe quello di dare, ripeto, l'attuazione a quella che è una creatura, cioè un codice accusatorio liberale, voluta niente meno che uno dei padri fondatori della Repubblica, ripeto, eroe della resistenza. Mentre Giorgia Meloni punta sul presidenzialismo e l'ala leghista sull'autonomia, per il guarda sigilli trevigiano Carlo Nordio, la vera scommessa è dare piena attuazione al codice di procedura penale. Una riforma del codice presuppone un tempo più lungo di alcune riforme invece più immediate che cercheremo di adottare in termini molto molto brevi e di cui in parte avete già parlato sui giornali, anche se ovviamente sarebbe improprio oggi pronunciarsi sul merito, che però vanno ovviamente in senso garantista. Atreviso per un convegno promosso dal Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova, Nordio parla anche dell'ipotesi di un nuovo tribunale della Pedemontana a servizio dell'area bassanese e di parte della marca occidentale. Noi abbiamo già detto alle Camere che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è oggetto di uno studio molto attento che tenga conto di tutti i fattori favorevoli e contrari, in questo momento non abbiamo ovviamente nessuna decisione, stiamo ascoltando tutte le voci per trarre alla fine delle conclusioni, non abbiamo nessuna preclusione in un senso o nell'altro.